buongiorno buongiorno a tutti il caffè con villanova di domenica 30 agosto sono le ore 9 e 20 oggi vi ho lasciato dormire qualche minuto in più visto che è domenica prima di iniziare la diretta come vedete riprendiamo le buone abitudini quindi con le due dirette del del fine settimana il sabato è anche la domenica soprattutto oggi con questa brutta giornata di pioggia ho detto quasi quasi torno a farvi un po di compagnia e vuoi far compagnia a me vedo che si stanno collegando i primi amici vediamo chi sarà il primo a scrivere il buongiorno eccola qua mariuccia ciao mariuccia buongiorno a tutti buongiorno susi buongiorno rodmila vedo degli amici che ci seguono sempre è bene insomma trovarsi ritrovarsi per questo caffè del mattino adesso che purtroppo l'estate sembra prendere una una brutta piega sembra volgere un po il termine però dai confidiamo che torni un po di sole fra qualche giorno allora lasciatemi iniziare prima di tutto con mandando un grande grande un forte abbraccio a tutti i comuni che ieri hanno subito l'ennesimo purtroppo gli ennesimi danni prima del tempo c'è stata una tromba d'aria ci sono state veramente delle situazioni difficili arzignano a trissino nell'alto vicentino in provincia di verona ancora in provincia di treviso anche non tanto distante da casa mia ieri si è scatenato il putiferio nel giro di pochi di pochi minuti ci sono stati danni quindi mandiamo un forte abbraccio spero che vi uniate tutti voi proprio nel mandare un forte abbraccio e che ha subito dei danni perché ieri abbiamo visto delle scene veramente brutte con alberi sradicati tetti scoperchiati quello che purtroppo succede spesso negli ultimi anni abbiamo visto veramente arrivare nel giro di pochi pochi minuti quindi mandiamo un forte abbraccio a chi ha subito questi danni oggi il governatore zaia sarà proprio in visita nei paesi più colpiti per andare a vedere com'è la situazione so che ci sono già decine decine di volontari della protezione civile che arrivano da tutto il veneto che sono andati sono intervenuti ieri in un giro di pochi minuti per dare una mano alle popolazioni di questi paesi colpiti e quindi diamo ringraziamo di cuore anche tutti questi volontari che danno sempre il loro tempo il loro tempo libero mettono a disposizione il loro tempo le loro professionalità per aiutare gli altri quindi un grande abbraccio a tutti i volontari protezione civile alpini associazioni combattentistiche che sicuramente oggi sono lì sotto la pioggia a dare una mano e penso che anche voi voi vogliate unire a questa a questo abbraccio e a questo ringraziamento che va nei loro confronti bisogna sempre ricordare cosa sarebbe il nostro territorio se non ci fossero queste persone e il nostro volontariato allora detto questo salutiamo gli amici collegati ciao patrizia emanuela franco tina vediamo c'è marco veramente tanti tanti amici anche oggi collegati è sempre bello vedere insomma che questi caffè vi tengono compagnia ciao terry terry è una delle amiche che ha seguito tutto il periodo del lockdown qui nel bellunesi tempo da lupi e grandi disastri anche se anche a belluno è vero ci sono stati se non sbaglio a ponte nelle alpi visto che ci sono stati parecchi danni quindi anche agli amici bellunesi un grande e forte abbraccio allora vediamo qui siete veramente tantissimi anche stamattina grazie grazie di cuore allora ditemi se avete qualche tema che volete affrontare qualche domanda qualche considerazione oggi siamo libri abbiamo avuto una bellissima diretta con le amiche delle leonesse delle vere e proprie leonesse abbiamo avuto il sindaco paolo a roma sindaco di ponte di piave abbiamo avuto la vice sindaca di cimadolmo chiara lovat e poi la abbiamo avuto l'onore di avere qui l'onorevole angela colmellere che ci ha dato e loro tre ci hanno dato un po il loro punto di vista su quello che è la ripresa dell'anno scolastico la riapertura delle scuole sapete un tema che riguarda tanti tanti di noi che dobbiamo dare i propri figli a scuola se ve lo siete perso lo trovate sulla pagina potete rivederlo sicuramente delle informazioni utili per sapere cosa succederà nelle prossime settimane se dovete mandare i propri figli i vostri figli a scuola come devo fare io visto che ho la piccolina che inizia l'inserimento all'asilo proprio questa settimana allora buongiorno Mirca ciao Mirca ti ricordo una delucidazione sul sì e sul no ecco questo è un tema che mi avete chiesto di affrontare in tanti tramite messaggi privati allora il nostro punto di vista diciamo la nostra posizione intendo come posizione della lega sul taglio parlamentari sempre stato di sì alla lega sempre votato a favore del taglio dei parlamentari io personalmente vi dico non sono diciamo non è un tema che mi scalda particolarmente il cuore come ho detto all'altra sera in televisione non non credo che questa sia una riforma fatta bene voterò sì logicamente come come le indicazioni anche se ritengo che ci siano delle riforme ad esempio quella di rimettere le preferenze per il voto in modo che ogni territorio possa scegliersi il proprio parlamentare penso siano delle riforme più utili più urgenti per quello che riguarda la politica dopo si può tagliare il numero dei parlamentari secondo me l'importante è importante che i parlamentari che ci sono e che vanno a lavorare nelle camere siano parlamentari che rappresentano il territorio che siano parlamentari che hanno una rappresentatività forte una territorialità forte e questo può venire solo se arriva con una riforma della legge elettorale e l'introduzione di nuovo delle preferenze so che alcuni dicono che le preferenze sono un modo per controllare le elezioni da parte dalla parte della mafia secondo soprattutto al sud ovviamente adesso è anche vero che è l'unico modo per far scegliere i propri rappresentanti in parlamento agli elettori quindi secondo me io correrei il rischio di rimettere le le preferenze in modo da per fare in modo appunto che un territorio possa esprimere il proprio parlamentare quindi questo è il mio punto di vista detto questo voterò sì come ha sempre fatto la lega allora saluto tutti gli amici che sono arrivati se avete domande mi raccomando fatele subito scriveteli così abbiamo tempo di affrontare anche magari di di sviscerare qualcosa che non vi è chiaro o magari franco sei abbronzato sì non tantissimo della vita forse c'è poca luce per quello che sembra più abbronzato anche perché non so se la campagna elettorale fa abbronzare condividete la diretta mi raccomando eccovi adesso vi metto fuori anche questo questo banner condividete la diretta che così la facciamo vedere più amici possibili basta schiacciare il bottone sotto condividi mi raccomando fate facciamo girare la diretta che useriano più amici e abbiamo più domande a cui rispondere togliamo questo e ripartiamo con i commenti vediamo allora buongiorno un abbraccio dice mirca chi ha avuto danni assolutamente sì veramente anche oggi siete tantissimi grazie veramente grazie grazie di cuore veramente allora partiamo da quello che è un tema secondo me è sempre molto caldo che a me fa particolarmente incavolare diciamola così che è il tema dei migranti il tema degli arrivi degli sbarchi di quello che sta succedendo ancora in sicilia che sta succedendo nei porti del sud di come il governo non sta affrontando questa situazione sta facendo finta di niente allora notizia proprio di di queste ore di questa mattina stanotte nella giornata di ieri stanotte ci sono stati 450 sbarchi a lampedusa stiamo parlando in altri 450 persone che sono arrivate allora a me la cosa che fa venire qualche domanda scusate un secondo allora stiamo sui giornali oggi ci sono le prime pagine che sono piene delle decisioni che stanno prendendo i governi europei su come fare per non chiudere il trasporto aereo tra paesi europei cosa vuol dire siccome ci sono degli stati come la francia la spagna la croazia diversi stati europei che sono in grandissima difficoltà in francia ieri hanno avuto 7 mila positività in un giorno stanno decidendo cosa fare per non dover chiudere il trasporto aereo per non dover chiudere le frontiere per non dover chiudere schengen stanno in tutti i modi cercando di evitare un nuovo lockdown ieri il presidente macron ha detto che non vuole assolutamente arrivare un nuovo lockdown però non lo può escludere quindi c'è questa evenienza vi sembra normale che non nel nostro paese si continuino a tenere i porti aperti secondo me no secondo me è un qualcosa che va contro ogni logica c'era da anni l'emergenza migranti l'emergenza immigrazione irregolare questo lo sappiamo sono veramente tanti anni abbiamo il nostro paese ha ospitato sembra una cosa come 700 800 mila immigrati negli ultimi dieci anni ha speso miliardi di euro e mi ricordo che negli anni dove ci sono stati renzi letta gentiloni sono stati spesi 5 miliardi di euro per la finta accoglienza quindi per dar da mangiare alle cooperative per la questione dei 35 euro migranti stiamo parlando di 5 miliardi di euro stiamo parlando proprio di bruscolini 800 mila persone che sono arrivate penso che il nostro paese abbia fatto anche di più del proprio dovere di fronte anche un'europa che invece non si è mai mossa non è mai mosso un dito giusto bene adesso si è aggiunto anche il tema del covid quindi il tema delle positività e noi continuiamo a tenere i porti aperti continuiamo a far arrivare migranti come se nulla fosse continuiamo a farli arrivare in situazioni assolutamente rischiosissime guardate quello che sta succedendo in sicilia con gli hotspot continuiamo ad avere migranti che non vogliono rispettare le regole per questa è la situazione ieri c'è stato non so se avete letto la notizia a un'altra cosa che a me fa particolarmente rabbrividire l'ospedale militare del celio tra i nigeriani se non sbaglio hanno fatto partire una rivolta perché hanno visto degli altri immigrati che uscirono dell'ospedale del celio in erano diventati negativi quindi li hanno fatti uscire loro erano positivi questi tre nigeriani cosa hanno fatto hanno fatto partire schiaffi botte morsi hanno iniziato a morsicare i medici militari sono dovuti intervenire i carabinieri ai carabinieri è stata strappata la tuta anti covid e hanno iniziato a sfasciare le stanze dove erano rinchiusi all'interno quindi capite una situazione veramente veramente critica allora ci possiamo ci possiamo permettere queste situazioni secondo me no scrivetemi se siete d'accordo oppure no che così facciamo anche un po di dialogo tra di noi ma secondo me è qualcosa che non sta nel cielo in terra prima di tutto non esiste che una persona che viene qua ed è ospite si permetta di fare delle rivolte o di non rispettare le regole che vengono imposto per motivi sanitari questo secondo me è qualcosa che va contro ogni grazia di dio ma non va neanche non non esiste che in un periodo come questo dove gli italiani sono in grande difficoltà ancora sono ancora molto molto preoccupati su come andranno le prossime settimane chi ha un'azienda che ha un'attività che un'impresa che ha un un negozio non sa ancora cosa succederà in autunno non succederà se verrà chiuso se non verrà chiuso se ci saranno dei lockdown se ci saranno delle chiusure territoriali se le cose andranno bene non si sa niente siamo tutti ancora molto appesi a quella che sarà la situazione no e dobbiamo mettere a repentaglio la il nostro paese la salute generale per continuare su questa strada dell'accoglienza della finta accoglienza che alla fine accoglienza non è ma è solo un business per qualcuno per chi ha le cooperative per chi gestisce questi immigrati che non riusciranno mai integrarsi nel nostro territorio perché l'integrazione passa sempre e solo attraverso il lavoro non c'è altro modo per integrarsi solo attraverso il lavoro lo si può fare e se non c'è lavoro per gli italiani come possiamo pensare di darlo agli immigrati se non c'è lavoro per i ragazzi che devono prendere partire andare all'estero come pensiamo di darlo agli immigrati e questo è un qualcosa che secondo me il governo non sta affrontando l'unico modo adesso per bloccare questa situazione è bloccare le partenze non ci sono alternative o si blocca le partenze si bloccano i barconi alla partenza quindi non li fai uscire dal porto o li blocchi subito dopo l'uscita dal porto con le navi militari oppure non ci sono alternative quando vado in televisione mi dicono eh no ma nessuno ha fatto niente per questo non è vero non è vero perché voi e vi invito a farlo perché è importante che voi andiate a controllare le cose che vi dico o che sentite in televisione voi andate a vedere i dati del ministero dell'interno basta è facilissimo fate anche eh statistiche sbarchi migranti su google ci state veramente cinque secondi vi si aprono le prime pagine sono quelle del ministero dell'interno andate a vedere i grafici perché è anche fatto sono veramente semplici da vedere sono i grafici con la comparazione degli ultimi tre anni voi vedete che ci sono degli andamenti che vanno eh quando c'era Minniti da da gennaio a fine luglio eh 15.000 sbarchi adesso vado a memoria con Salvini 3.500 nello stesso periodo con la Lamorgese 13.000 adesso sono ancora aumentati perché ci sono i dati di fine agosto quindi vedete la differenza allora quando vi dicono che non si può fare niente contro questi sbarchi vi stanno dicendo una bugia perché perché quando c'era Salvini quando c'era la lega al governo i barchi gli sbarchi sono stati eh più che dimezzati siamo arrivati a un dieci per cento e nei periodi caldi rispetto a quello che c'era prima allora capite che quando vi dicono che queste questa è una situazione che non si può governare perché è una situazione epocale e noi dobbiamo eh essere pronti a ricevere tutti quelli che arrivano vi stanno dicendo una fesseria vi stanno prendendo in giro e lo fanno ridendo lo fanno anche con questa spocchia pensando di prendersi tutti per i fondelli in realtà si può fare si possono bloccare i porti si possono bloccare l'ONG e si possono bloccare le partenze lo si può fare da subito perché le leggi ci sono solo che non vengono applicate i decreti sicurezza che erano stati approvati dal parlamento su proposta della lega l'anno scorso per i quali i 5 stelle avevano votato due volte la fiducia due volte la fiducia sono ancora legge dello stato questi mettono dei vincoli hanno tolto il permesso di soggiorno speciale hanno messo le super multe per i comandanti dell'ONG il sequestro delle navi per l'ONG sono ancora in vigore però non vengono applicate e tra l'altro l'unico che le applicate quindi Salvini è stato mandato a processo proprio dai 5 stelle che avevano votato la fiducia l'anno scorso quindi se c'è la volontà di bloccare questa situazione di arginarla si può e si deve fare la questione è che non c'è la volontà a qualcuno va bene così tra l'altro vi ricordate tutti quegli accordi che erano stati fatti con l'Europa per i ricollocamenti vi ricordo vi ricordate l'accordo di Malta che era arrivato subito dopo il governo giallorosso appena partito il governo giallorosso era stato fatto questo summit a Malta dove si era deciso di parlare di ricollocamenti di mandare in giro per l'Europa chi arrivava era stato sbandierato come un grande risultato del nuovo governo giallorosso bene quei ricollocamenti non sono mai partiti non sono mai esistiti quindi l'Italia si è sempre fatta carico di tutti quelli che arrivano ha sempre pagato vitto alloggio quelli che arrivano e altra questione importante quando andate a vedere sul sito del ministero degli interni i dati li vedete anche le nazionalità di provenienza di questi migranti che arrivano con i barconi bene al primo posto c'è la Tunisia al primo posto e con un grandissimo distacco rispetto agli altri Tunisia che è un stato democratico dove non c'è una guerra dove non c'è fame e dove arrivano solo migranti economici il secondo posto è il Bangladesh e il Bangladesh è un altro stato dove non c'è la guerra quindi capite bene che quando dicono questi scappano dalla guerra dalla fame e compagnia vi stanno prendendo ancora una volta in giro ma vediamo se c'è qualche messaggio allora vediamo dell'ucidazione su sì e su no le ho fatte prima questo messaggio di qualche minuto fa andiamo a allora vedo che siete in tanti che mi chiedete per il referendum come vi dicevo io voterò sì anche se non diciamo non è un tema che mi scalda tanto il cuore anche perché come al solito pensate di risparmiare un centesimo con questo taglio di parlamentari secondo me non risparmeremo proprio assolutamente niente e bisogna dire alcune zone magari avranno anche una rappresentanza un po' diminuita però ripeto l'indicazione della lega è di votare sì vediamo allora vediamo Nadia ogni anno succede purtroppo sempre peggio tra il virus e altro dovrò vedere mia mamma in video chiamata mi dispiace che succede queste cose che Roberto cosa pensi l'Italia io penso che è sempre peggio ma no e non voglio pensare che sia sempre peggio non dobbiamo neanche essere troppo troppo pessimisti noi veneti in particolare ma anche diciamo gli italiani in generale abbiamo sempre dimostrato che nelle situazioni difficili riusciamo a tirare fuori delle energie che magari in altri stati che sembrano sempre messi meglio non riescono non riescono a trovare quindi non voglio essere così pessimista però è vero che stiamo comunque affrontando un periodo molto molto difficile molto preoccupante quindi non bisogna non bisogna essere troppo negativi però diciamo che sicuramente dovremo affrontare delle sfide che ci terranno parecchio impegnati nel prossimo periodo comunque è una broccione a Nadia e anche anche alla tua mamma è una trappola allora vediamo buongiorno allora si è Ponte Nelpi scorperchiato il Palamares grandi ne come Noci nel comune di Belluno e al Pago quando posso sempre un piacere vederti grazie Terry allora vediamo se c'è qualche messaggio sull'ultimo tema allora lezioni dei giornali venetano a protesta la nostra attenzione al nostro non voto sulla simbola protesta con la classe politica in blocco di auto benzina vabbè qui abbiamo un po di qualcuno che si è svegliato male stamattina allora Gabriella ma non ospedale mi tra i soldati cosa fanno ma i manganelli ci sono solo in America qui cosa do adoperiamo allora non è tanto la questione dei manganelli la questione è che sono i militari e i carabinieri che sono costretti a subire le violenze da parte di questi personaggi l'abbiamo visto la caserma serena a Treviso lo vediamo al Celio l'abbiamo visto il Celio quindi sono situazioni che si stanno ripetendo e il brutto è che i rappresentanti delle forze dell'ordine non si possono difendere questo è il vero problema sapete bene che se qualcuno prova a difendersi e vi ricordo le immagini del poliziotto a Vicenza che ha dovuto fare l'arresto in maniera diciamo con usando la forza è andato finito su tutte le prime pagine e ha avuto anche se non sbaglio un'indagine interna da parte del capo della polizia quindi capite bene da che abbiamo dei rappresentanti dello stato dei poliziotti di carabinieri delle forze dell'ordine che sono costretti ad intervenire a rischiare la propria pelle a rischiare la propria salute a rischiare di perdersi quattro bastonate e dall'altra parte hanno uno stato che non li difende praticamente mai però bisogna dire che sicuramente i cittadini onesti sono dalla loro parte allora se avessimo al governo persone normali non li avrebbero fatti partire giusto anche perché in una situazione del genere penso sarebbe utile usare la propria marina militare per andare a bloccare i porti e fermarli in partenza allora chi vuole chiudere i porti almeno in questo periodo di covi non può occupare le camere chiedere un confronto serio con chi li ammette perché non si trova un accordo ragionevole perché non c'è possibilità di fare un accordo ma altrimenti ti ricordo che solo qualche settimana fa hanno votato per mandare a processo il ministro che stava bloccando gli arrivi che aveva bloccato i porti un ministro che ha fatto il proprio lavoro che è stato inquisito per aver fatto il proprio lavoro fatto secondo me politicamente gravissimo in uno stato di diritto un ministro che viene eletto parlando nel proprio programma quindi stato votato sul programma di chiudere i porti di chiudere gli arrivi di bloccare l'immigrazione regolare un ministro che viene indagato per questo e per cui le camere votano la l'autorizzazione a procedere secondo me ha fatto veramente gravissimo bisogna mettere le navi limiterrane per bloccarli di chiudere le frontiere soprattutto nel frio di venezia e giulia giustamente ragione sarà lasciare che la polizia possa difendersi senza poi essere accusati condivido tutto quello che stai dicendo sarà perché se non diamo la possibilità alla polizia di difendersi vuol dire che li mettiamo nelle condizioni di prenderle e questo secondo me non è giusto in uno stato normale Giovanni qui stiamo andando fuori il tema Pasquale un governo di incapaci su questo diciamo che per una buona parte concordo i ricollocamenti a casa loro questa potrebbe essere una buona una buona idea però vediamo che c'è sempre qualche inghippo dal punto di vista burocratico sul fatto di rimandarli a casa loro e poi non dimentichiamoci che quando vengono in teoria rimandate a casa quindi vengono viene decretato il fatto che non sono richiedenti asilo che non meritano l'asilo e compagnia ci sono sempre delle file di associazioni e di avvocati che li vanno a rappresentare a difendere fanno appello ai tribunali intasano i tribunali con le richieste di appello e quindi bloccano quello che può essere il ricollocamento bloccano quello che può essere il rimpatrio tant'è vero che ci sono come abbiamo visto con la caserma serena ci sono richiedenti asilo che sono fermi qui da 4-5 anni quindi sono qua ha convinto alloggio pagato dagli italiani dai veneti fermi qui da 4-5 anni in attesa di sapere cosa possono fare quindi capite bene che è una situazione veramente veramente difficili ah oh Michele qui tocchi un punto veramente giusto allora abbiamo una grande grande possibilità per dare un grande segnale al governo Conte abbiamo la possibilità di dargli veramente l'avviso di sfratto con soprattutto dove si vota per le regionali e quindi sapete che anche qui in Veneto il 20 e il 21 settembre andiamo a votare e quindi mi raccomando votate bene votate per dare questo segnale io qua vi sto dando anche una piccola indicazione vediamo se è di qua su come fare vedete il simbolo è questo qui e dovete fare così in provincia di Trevigio quindi vi faccio anche un po' di spot voto Zaia e scrivo Villanova allora troppo offerta lavoro porta riduzione salario andiamo un po' sul tecnico allora per quanto riguarda il referendum per la riduzione dei parlamentari Salvini per credenza dice sì ma leggendo bene tra le righe prima andava dall'autonomia alle regioni poi repubblica presidenziale per me è un no allora beh autonomia alle regioni e presidenzialismo non sono due cose che vanno in contrapposizione cioè non è tra l'altro abbiamo raccolto anche le firme per il presidenzialismo presidenzialismo vuol dire eleggere il capo dello Stato farlo eleggere dai cittadini e cosa c'è di meglio dal punto di vista democratico di eleggere il proprio capo dello Stato in Italia non è mai stato così perché c'è chi ha paura di avere l'uomo forte al comando è un rettaggio che arriva dai tempi lontani io credo sia più che doveroso fare in modo che gli italiani possano eleggere il proprio presidente della Repubblica la più alta carica dello Stato non ci vedo nulla di pericoloso non ci vedo nulla di così sconvolgente anzi sarebbe l'esercizio migliore di democrazia anche perché chi non vuole il presidenzialismo solitamente sono quelli del PD che con il metodo che abbiamo adesso riescono sempre ad avere il presidente della Repubblica dalla loro parte ed è per questo che non vogliono far votare gli italiani c'è un video che gira sul web dove stanno alzando i neri contro salivini in cui gli dicono che lo vogliono morto e purtroppo queste sono situazioni che sul web si ripetono spesso ciao Luca, ciao grande un abbraccione allora per il costo di un caffè all'anno tu gliela dai vinta ai cazzari dovranno utilizzare gli stipendi invece se li sono tenuti stretti così votano un monopattino allora a referendum se vogliamo mandare a caso i pagliacci qui Pasquale dà la sua indicazione di voto sapete che c'è la massima libertà in queste dirette di dire quello che pensate senza dire parolaccio senza insultare nessuno allora Consuelo buongiorno Alberto parlando di scuola secondo me è scandoso sentire che molti prof non vogliono ritornare a scuola su questo concordo lasciando a chi ha importanti patologie il problema non dovrebbe sussistere per chi ha un impegno nel privato come per chi ha un impegno nel privato che si licenziano ma non pagati per stare a casa in malattia Consuelo condivido condivido allora secondo me l'assoluta maggioranza la stragrande maggioranza degli insegnanti sta facendo un lavoro importantissimo grandissimo per fare in modo che le scuole ripartano in sicurezza quindi bisogna ringraziare e bisogna fare i complimenti ai tanti presidi ai tanti insegnanti che in questo periodo stanno lavorando anche il proprio oltre il proprio orario di lavoro e ce l'hanno confermato ieri anche le nostre amiche sindache che hanno dei rapporti retti con i presidi ci hanno confermato che ci sono veramente tantissimi insegnanti che stanno facendo i salti mortali per fare ripartire le scuole c'è un piccolo una piccola percentuale legata magari a qualche organizzazione sindacale che invece si sta rifiutando di ripartire con la scusa del rischio io voglio chiedere a questi a questi pochi pochissimi insegnanti che si rifiutano di andare in classe se dopo resteranno chiusi nel caso non dovessero rientrare a scuola se dopo resteranno chiusi nelle loro case non dovrebbero muoversi perché se hanno paura di andare a scuola non dovrebbero andare uscire neanche a prendere il pane non dovrebbero uscire per andare in posta non dovrebbero recarsi negli uffici non dovrebbero recarsi nei negozi quindi a questi che non vogliono andare a scuola non vogliono fare il proprio lavoro giustamente come dici tu ci sarebbe bisogno di intervenire e soprattutto c'è bisogno di fare in modo che chi si occupa di pubblica amministrazione dimostri come succede spesso nella maggior parte dei casi però dimostri di far andare avanti questa attività perché la pubblica amministrazione e l'istruzione sono fondamentali per il nostro paese quindi sarebbe anche giusto come sta succedendo nel privato dove lo smart working è diventata una parte diciamo minima residuale dell'attività lavorativa sarebbe giusto che insomma anche nel pubblico si tornasse a lavorare negli uffici mantenendo le distanze con le mascherine con tutti gli strumenti di prevenzione però sarebbe giusto insomma che si tornasse a dare risposte veloci e concrete ai cittadini e alle aziende che hanno bisogno quindi su questo tema sono assolutamente d'accordo allora vediamo Forza Zaia grande saluto anche Carlo vediamo filtrai i permessi a chi viene in Italia solo per lavoro così vengono rispettati tutto da rivoluzionare primis tutela per gli italiani lavoro economia interna meno tasse giusto giusto allora bisogna dire dal punto di vista permessi per chi viene in Italia solo per il lavoro questa è la legge cioè noi abbiamo la legge sull'immigrazione che prevede che per entrare regolarmente in Italia ci voglia un contratto di lavoro e ci sono decine forse centinaia di migliaia di stranieri che sono arrivati in Italia hanno rispettato la legge si sono perfettamente integrati nel nostro territorio grazie al lavoro si sono creati un futuro nel nostro territorio hanno iniziato a vivere secondo quello che sono le usanze gli usi e i costumi nel nostro territorio e ricordo che il Veneto è una delle prime regioni in Italia per il numero di residenti di origine straniera perché stiamo parlando dell'11% la questione è che c'è una parte politica che vede come unico modo per entrare in Italia non la via regolare ma la via irregolare quindi permesso di soggiorno a tutti anche a chi non ne ha diritto anche a chi viene qua solo per motivi economici chiunque sbarchi sul suolo italiano dovrebbe avere il permesso di soggiorno è questa è una linea politica che a me fa venire veramente i brividi veramente i brividi sulla schiena se chi la pensa come noi o chi la pensa come me viene aditato sempre di essere un razzista di andare contro questi che scappano dalla guerra dalla fame però ripeto come dicevo prima non è gente che scappa dalla guerra dalla fame tra l'altro ieri è uscita anche un'agenzia che diceva che le autorità tunisine quindi le forze dell'ordine tunisine hanno mandato un'allerta rossa per quello che riguarda gli sbarchi nel nostro paese perché sembra che sui barconi si stiano infiltrando decine di ex terroristi dell'ISIS questo è qualcosa che i nostri servizi segreti avevano già evidenziato erano già usciti degli articoli a riguardo adesso arrivano anche tunisine dircelo quindi non scappano dalla guerra non scappano dalla fame probabilmente arrivano che sono anche positivi al covid e per di più ci portiamo dentro anche qualche terrorista quindi veramente su questo come ho scritto ieri in un posto abbiamo fatto hanno fatto veramente tombola allora però se manifestano gli italiani pacificamente contro il governo le botte le prendono come in più avranno i guai per il resto della vita ma noi su questo non è dai Romeo io ho fatto tante manifestazioni negli ultimi anni e devo dire che quando fai manifestazioni in modo pacifico come facciamo noi di solito le forze dell'ordine sono sempre schierate ma sono schierate perché devono comunque tutelare l'ordine pubblico ma di solito vengono applaudite dai nostri cortei dalle nostre manifestazioni quindi sul fatto che ci siano bastonate chi manifesta contro il governo questo assolutamente no per fortuna buongiorno da Edito un altro amico che ci ha seguito per tutto per tutto il periodo del lockdown buongiorno buongiorno allora si chiamano flussi sono stabiliti per leggi le quote è vero ha assolutamente ragione noi stiamo parlando ovviamente di quelli che sono arrivano extra i flussi e extra quote stiamo parlando di tutta quell'immigrazione regolare che qualcuno vorrebbe far passare come la normalità ma in realtà non è la normalità guardate negli altri paesi europei se succede la stessa la stessa cosa allora ciao Alberto non demordere forza e coraggio ma assolutamente figurati se se muogliamo bisogna proseguire con le battaglie democratiche nelle piazze noi con voi della Lega grazie Stefano grazie grazie Firmina ciao Firmina un abbraccio con tutte quelle anime belle che tutelano queste persone che alla fine arrivano solo per delinquere hanno mai portato con famiglie che hanno un familiare con disabilità bella domanda bella bella domanda secondo me poche volte mi vedo un po' scollegati dalla realtà allora se fatemi domande se avete tanto come vi dicevo prima condividete la diretta mi raccomando e se avete domande scrivetele che abbiamo qualche un po' di tempo per rispondere visto che sono qui a vostra disposizione fate tutte le domande che vi vengono in mente che così abbiamo anche da discutere ciao Sileno e ciao Eddie un grande abbraccio morale alle nostre province che sono state martoriate da molto tempo come dicevo prima tra l'altro adesso sto guardando e sto sentendo che ci sono anche fulmini qui da piede da dove vi sto da dove sono in diretta sento che c'è ancora temporali in arrivo speriamo che non faccia danni tra l'altro scrivetemi sui commenti che così facciamo anche un rapido giro per vedere tra chi sta seguendo questa diretta da dove scrivete com'è la situazione lì del maltempo se ci sono problemi se vedete che così facciamo anche un aggiornamento proprio in diretta della situazione meteo sui nostri territori gloria gli insegnanti dovrebbero essere obbligati a presentarsi al lavoro ma diciamo che seguendo quelle che sono le regole io penso che abbiano dovrebbero non ci dovrebbero essere differenze tra gli impiegati pubblici e gli impiegati privati quindi ci dovrebbero essere le stesse regole non dovrebbero esserci trattamenti diversi quindi se nel privato le persone sono tornate a lavorare e c'è solo una piccola parte smart working dovrebbe essere lo stesso anche nel pubblico non vedo perché ci debbano essere dei comportamenti e dei trattamenti diversi allora le nostre quote i flussi migratori regolari sono sempre chiuse per colpa dei clandestini anche questo è vero tra l'altro qui sta iniziando veramente a piovere ma in modo molto molto intenso allora le ultime 24 ore sono arrivati 750 migrati e i migranti che naturalmente metà scapperanno in giro senza controlli molti saranno positivi mentre si controllano in ogni passo gli italiani è una vergogna tra l'altro sì c'è anche il discorso delle quarantene io conosco diverse persone che in questo periodo sono in quarantena non perché siano positive ma perché sono state a contatto con una persona positiva magari sintomatica magari con una bassa carica virale quindi con un bassissimo rischio di contagio tra l'altro queste persone in quarantena come dicevo prima hanno fatto i tamponi sono assolutamente negativi però la legge è che in questo periodo debbano stare in quarantena per 14 giorni stanno rispettando tutti queste queste limitazioni tra l'altro anche con delle ricadute dal punto di vista lavorativo sia per loro che per le aziende dove lavorano non capisco come mai se agli italiani vengono date delle regole così stringenti così forti così impegnative da seguire non capisco come mai per chi arriva invece non ci siano queste regole oppure ci chiudono occhio sul fatto che le regole non vengano rispettate oppure si chiudono occhio sul fatto che ci sono decine e decine di clandestini di migranti che scappano dai centri di accoglienza che scappano pur essendo positivi e dopo continuano a girare sul territorio se non sono delle bombe sanitarie queste delle emergenze sanitarie ditemi voi di cosa dobbiamo stare attenti allora vediamo l'aggiornamento anche a Vittorio Veneto sta tornando a Padova piove e mi sa che oggi piove da tutte le parti speriamo speriamo insomma che non sia sono un po' di temporale non ci sia non ci sono i danni di ieri le forze le forze dell'ordine lavorano solo quando ci sono le sardine nei comizi di Salvini visto che sono democratici anche questo è vero oppure quando ci sono i centri sociali che vanno a manifestare in maniera molto democratica incendiando le auto e spaccando le vetrine allora io non posso votare non sono nella provincia di Treviso ma consiglio a tutti i miei contatti votare per Zaia e scrivere Villanova grazie grazie mille Maria e Pia veramente grazie di cuore e grazie anche a tutti gli amici che lo faranno in provincia di Treviso grazie veramente di cuore perché questa la sfida che stiamo affrontando è una sfida molto molto difficile molto competitiva ci sta mettendo un grande impegno speriamo che vada bene ma spero proprio di avere il vostro aiuto il vostro supporto basta veramente poco per farlo basta andare a votare votare la lista Zaia il simbolo lo vedete sbaglio sempre il lato questo qui vedete questo simbolo qua e basta scrivere il nome Villanova a fianco quindi se grazie per tutti quelli che lo faranno grazie di cuore per l'aiuto che mi darete magari anche condividendo insomma quello che è il materiale che sto caricando sulla pagina condividendo la diretta ci sarà anche qualche gadget che arriva nei prossimi giorni per gli amici magari per chi ha avuto la maglietta ci sarà anche qualcosina da poter esporre quindi se avete voglia insomma di far parte delle persone che mi fanno un po' di pubblicità così basta mandatemi un messaggio che vi faccio arrivare qualche gadget simpatico da mettere fuori insomma facciamo un movimento anche in questo in questo periodo salvo un forte abbraccio da Sardegna non ne possiamo più di questo governo di Cialtroni collusi insieme ad una parte della magistratura ciao salvo un abbraccione anche a te vediamo l'aggiornamento Marco ci dice che è strano nuvoloso con pioggia leggera a Bassano piove ma nessun danno per fortuna a Ponte di Piave splende un pallido sole addirittura a Pasquale cioè qui a Pieve sta venendo giù acqua a secere verse come dice noi e a Ponte di Piave invece splende il sole sarà merito della nostra amica Paola Roma e della sua squadra che fa splendere il sole a Ponte di Piave allora Salzano piove allora se vince il sì come sono le percentuali di chi sta a casa circa un terzo un terzo dei parlamentari sta a casa quindi a proposito attenzione attenzione perché anche questo è un messaggio che sta passando guardate che non stanno a casa quelli che ci sono già cioè quelli che ci sono già rimangono fino a fine legislatura e dalla prossima legislatura tra l'altro se non sbaglio ci deve essere anche una modifica della legge elettorale si passerà il referendum per far partire questa riforma quindi attenzione non è che quelli che sono adesso in Parlamento ce ne sarà un terzo che rimane a casa assolutamente no sarà dalla prossima legislatura in Lombardia vento ma sta uscendo il sole bene allora vuol dire che siamo proprio noi qua siamo noi qua in Veneto nella pedemontana Veneta nell'occhio del ciclone ma speriamo che non si tratti del ciclone ma è semplice temporale Malta non accusava l'Italia di non fare accoglienza quando c'era Salvini come tiene i porti chiusi è bella domanda Fernando perché quando si tratta di accusare l'Italia tra l'altro avete visto che Malta ha chiuso i porti e le navi ogni giro hanno deciso di far rotta tutte sull'Italia navi tedesche come la Sea-Watch domanda anche là molto molto semplice come mai le navi tedesche non prendono e vanno in un porto tedesco a scaricare il loro carico di migranti domandina semplice che così fanno già loro il ricollocamento li portano già loro nel porto in un altro porto europeo non capisco come mai ci si è sempre questa idea di farli venire in Italia ma chissà come mai abbiamo un bicchiere d'acqua perché sto parlando ormai da 40 minuti allora Ettore ciao Alberto se non te si risparmio di più con il taglio dei parlamentari al blocco degli sbarchi per il loro mantenimento la risposta è assolutamente scontata ma anche perché basta guardare i dati i dati di quanto costa l'accoglienza quanto costa il sistema quanti soldi quanti milioni di euro sono stati previsti per dare la cittadinanza per dare l'accoglienza per le navi quarantena quanti milioni di euro sono stati destinati ed è presto detto quindi non vi ricordate vi ricordate nel 2011 quando sembrava che le province fossero il metto a posto che se no non sta bene nel 2011 quando le province sembravano che sembrava che fossero il male assoluto dell'Italia allora c'è stato un bombardamento mediatico sulle province dove tolte le province risparmieremo un sacco di soldi tolte le province risparmieremo la casta la casta andrà a casa non ci saranno alla fine cosa è successo hanno fatto la legge del Rio con il governo Renzi dove le province sono state azzoppate è rimasto hanno tolto i dipendenti una gran parte dei dipendenti hanno tolto l'elezione diretta del presidente del consiglio adesso c'è un'elezione che viene deputata ai consiglieri comunali che comunque non hanno tolto la possibilità di decidere nei vari collegi della provincia chi mandare in consiglio provinciale hanno tolto competenze hanno tolto soprattutto soldi che sono stati portati via dalle province e sono tornati a Roma e le competenze delle province sono state date messe in carico alle regioni quindi hanno tolto fondi alle regioni siamo trovati dopo la riforma del Rio ad avere le province che non potevano più intervenire sulle scuole sulle strade sull'ambiente su tutti quei temi fondamentali per il nostro territorio quindi siamo trovati con le strade senza manutenzione per un lungo periodo quanti soldi abbiamo risparmiato di tasse grazie a questa presunta abolizione delle province o distruzione sicuramente sì delle province 0 0 0 0 0 e questo è stato il risultato cioè non abbiamo più votato non abbiamo avuto più rappresentanti eletti direttamente dal popolo dai cittadini il presidente della provincia e il consiglio provinciale siamo trovati con meno rappresentanza siamo trovati con meno servizi siamo trovati però con gli stessi soldi da pagare e senza risparmio quindi questo mi ricorda tanto il tema del taglio dei parlamentari che stiamo vivendo adesso con il battaggio con questo ammartellamento sul fatto del taglio parlamentare allora se qualcuno mi dice che il taglio viene fatto per risparmiare secondo me non risparmieremo un centesimo neanche stavolta se mi dicono che serve per rendere tutto più snello più veloce compagnia ho qualche dubbio vediamo vediamo cosa succederà vediamo che legge elettorale faranno e su quello capiremo Massimo buongiorno Alberto auguri per la tua candidatura sempre avanti tutta grazie mille Massimo grazie a tutti voi e gli amici che mi seguono ormai da tanti mesi con queste dirette buongiorno in Tunisia in corso lo svuota carcere da almeno un anno dal carcere di Sidi Bouzid si parla di oltre 200 allontanamenti per dove Claudio non fare questa domanda perché dopo ti potrebbe arrivare una risposta ma perché in Tunisia cosa fanno siccome sanno che c'è questo canale diciamo preferenziale per mandare via i loro galeotti allora cosa fanno aprono le carceri lasciano i porti aperti lasciano la possibilità di partire così si tolgono qualche peso qualche problema da casa e questi problemi chissà chi li troverà in casa in casa propria io ho un così qualche dubbio Roberto da parte mia l'hai già sotto inteso grazie mille allora sarebbe interessante sapere se qualcuno è andato in vacanza in Tunisia ma in questo periodo ma mi spiace non poter divotare ma lo farò tramite tutti i miei amici trevigiani io sto con Forcolin ciao Massimo un abbraccio e un abbraccio anche all'amico Gianluca il grande uno dei leoni che speriamo di rivedere presto anche in diretta qui da noi un grande abbraccio Massimo un grande abbraccione veramente all'amico Gianluca Forcolin il grande Forco che ci ha tenuto compagnia è stato qui con noi per tante tante settimane e non vedo l'ora di riabbracciarlo di persona grazie Iole grazie di cuore vedo che hai messo anche sulla tua immagine di profilo il motivo fatelo anche voi se volete darmi una mano per queste tre settimane che mancano avete vedete Iole che sull'immagine del profilo ha la scritta voto Zai scrivi Villanova per chi vuole darmi una mano può farlo tranquillamente può aggiungere il motivo alla propria foto profilo semplicissimo cliccate sulla vostra foto profilo aggiungi motivo fate ricerca scrivo Villanova e vi verrà fuori quel logo lì quindi grazie grazie per chi lo farà Ieri ho visto la manifestazione in Germania contro il Covid tutti senza mascherina e tutti attaccati e secondo me anche tutti un po' rimbambiti lasciatemi fatemi passare sto termine sono un po' rimbambiti per non dire un'altra roba però non posso dirla perché non sta bene però se in un periodo del genere non capiamo che dobbiamo fare attenzione dobbiamo mettere la mascherina dobbiamo stare attenti non dobbiamo sottovalutare il pericolo quelli che fanno così sono dei rimbambiti adesso l'ultima parte della dieta parliamo proprio di quello che succede dal punto di vista Covid che secondo me è giusto fare un po' di chiarezza è giusto dire com'è la situazione tanta piova qui a Borso del Grappa Fernando ecco abbiamo l'aggiornamento hanno sguarnito le città della Forza e loro ebbero mandare dove ci sono gli hotspot a controllare i migranti assolutamente anche questo è vero pensate solo alla caserma serena dove per gestire le rivolte dei migranti sono stati messi decine decine di poliziotti carabinieri e volontari addirittura anche i vigili del fuoco che devono intervenire con gli migranti per sedare le rivolte quindi capite bene quante persone delle forze dell'ordine debbano passare il proprio lavoro a stare dietro a queste persone invece di fare ordine pubblico e gestire la sicurezza per i cittadini grazie grazie Antonella anche io della Lombardia se fossi in Veneto votare Zai Alberto tutta la vita grazie di cuore Longarone piove Trieste piove salutami la mia cara Trieste per la nostra sindaca Palloroma il sole splende sempre è vero ha un'energia la Paola che veramente ieri finita la diretta gli ho mandato un messaggio mi basterebbe avere metà della tua energia soprattutto in questo periodo di campagna elettorale perché veramente è una macchina da guerra la grande la grande Paola allora io direi vediamo a Meduna c'è il sole ma ragazzi guarditemi cosa succede perché allora qui sta venendo giù veramente sta venendo giù acqua in una maniera impressionante e a Meduna spende il sole allora è inutile che ci domandiamo come vengono tutti da noi evidentemente hanno ordini dall'altro ma più che ordini dall'altro sapete secondo me è una questione che vanno dove li fanno entrare perché se tu continui a dire che qui li fai entrare e continui a dire che c'è la sanatoria per i migranti della Bella Nova e vi rinvito ancora una volta se non l'avete fatto andate su youtube e scrivete sanatoria migranti Bella Nova guardate cosa viene fuori perché vengono fuori tutti gli spot pubblicitari fatti in arabo con scritto sanatoria migranti Bella Nova per far partire la gente e farla venire in Italia andate a vedere se non ci credete youtube sanatoria migranti Bella Nova e vedrete tutti i video in arabo che sono degli spot pubblicitari per far venire qui i migranti guardate se non ho ragione se non è vero allora allora se vince sì potremmo andare a votare dobbiamo aspettare che finisca questa legislatura così avremo tempo di votare anche il Presidente della Repubblica se vince il sì secondo me non andremo a votare fino a fine legislatura assolutamente questi sono incollati alla carrega come io non so quale non vorrei far pubblicità qualche colla ma io mi ricordo il mastice Bostick che usava mio nonno ecco quel mastice l'ha e lo hanno usato si sono incollati soprattutto i 5 stelle che dovevano darci lezioni di dignità politica questi hanno perso tutto quel briciolo di dignità che gli rimaneva e probabilmente ne perderanno ancora nel prossimo nel prossimo futuro pur di restare appesi alla loro carighetta adesso cercano ancora navi per ospettare gli africani navi che costano non sono gratis e proprio i soldi ci sono 4.800 euro al mese a migranti su queste navi crociera ripeto 4.800 euro al mese 160 euro al giorno Paola a che indirizzo devo richiedere il materiale basta che mandi un messaggio alla pagina qui in privato dopo ti metto in contatto e ti farò arrivare il materiale quindi se volete avere un po' di gadget da esporre per queste tre settimane di campagna elettorale non vi svelo ancora cos'è mandate mandate pure un messaggio in privato dopo sarà la grandissima Vale la Valentina che mi dà una mano per farvelo arrivare quindi grazie a tutti voi e a chi vorrà darmi una mano in maniera concreta quindi vorrà fare il volontario ecco vi faccio anche vi faccio passare questo qua sotto così lo vedete qua è tutto il bello della diretta vi faccio la regia vi faccio passare tutto quanto allora diciamo 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 che andiamo a parlare del covid che così ci avviamo verso la conclusione del della diretta allora covid come sta andando l'andamento dei contagi allora questo secondo me ripeto secondo me è un periodo importante decisivo per quello che saranno le prossime settimane perché perché adesso siamo più o meno due settimane anzi siamo proprio a due settimane da quello che è stato ferragosto quindi il momento in cui probabilmente ci sono stati più assembramenti dell'estate nelle discoteche nelle spiagge in tutte le zone turistiche il periodo di ferragosto è stato sicuramente il momento dove la gente si è incontrata ha fatto festa ha probabilmente abbassato la guardia adesso siamo a due settimane quindi il periodo di incubazione il periodo di dove si possono verificare contagi sta raggiungendo proprio il momento clou nelle prossime settimane dovremo allontanarci da questa fase dove tutti erano molto vicini nelle spiagge nelle zone di villeggiatura abbiamo visto quello che è successo in Sardegna oppure in Croazia ci saranno i rientri che comunque sempre più gente rientrata sempre meno gente va in vacanza quindi la probabilità di questi contagi di questi assembramenti nel periodo di vacanza di villeggiatura andrà diminuendo quindi secondo me se riusciremo ad affrontare bene questa fase probabilmente riusciremo a gestire bene anche il prossimo il prossimo futuro è importantissimo che gli enti pubblici lo Stato e la Regione continuino a fare quel monitoraggio con i tamponi ieri siamo arrivati a 100.000 tamponi in tutta Italia ma considerate che il Veneto è la prima regione per numero di tamponi ogni giorno va sopra i 12.000 tamponi arriva a picchi anche di 14.000 tamponi questo vuol dire andare a intercettare rapidamente quelli che sono i positivi e sintomatici andare a intercettare subito i focolai andare a bloccarli subito ed è per questo che è importante anche rispettare quelle che sono le regole rispettare le quarantene rispettare il fatto di poter comunque gestire la situazione allora noi nel Trevigiano abbiamo avuto un focolaio importante in questi ultimi giorni le ultime decine di giorni che è quello di un'azienda alimentare di Vazzola nel Trevigiano dove ci sono stati 180 positivi all'interno di un'azienda però si è deciso di non chiudere l'azienda e questo secondo me è un laboratorio un esperimento chiamatelo come volete che ci può far capire che con molta attenzione con una struttura sanitaria come quella che abbiamo noi in Veneto con un monitoraggio costante e con una campagna di tamponi che va ad isolare il focolaio si può pensare anche di riuscire a continuare le attività lavorative anche in situazioni di focolai che fino a qualche mese fa avrebbero fatto chiudere un'intera provincia forse un'intera regione 180 positivi vi ricordate a febbraio marzo avrebbero veramente creato il panico in questa situazione riusciamo ad arginare i focolai attraverso i tamponi a tappeto riusciamo ad arginare quelli che sono i contagi e riusciamo a mantenere in piedi le attività senza chiudere e questo secondo me sarà il modo di affrontare l'emergenza in futuro dovremo fare in questo modo perché non ci possiamo permettere di chiudere le attività lavorative perché non possiamo evitare di far andare avanti il contagio di far progredire il contagio ma non dobbiamo non dobbiamo nemmeno permetterci di far morire le nostre aziende le nostre attività o i nostri esercenti ripartitive perché se ne facciamo morire quelli dopo ci troviamo in una situazione veramente impossibile da affrontare quindi quello che io vi dico come vi ho sempre detto è niente allarmismo ma tanto buonsenso tanto 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 buonsenso quindi continuate a portare avanti tutte quelle iniziative tutte quelle pratiche che ormai conosciamo benissimo indossate la mascherina soprattutto quando siete al chiuso o siete nei locali pubblici quando siete a contatto con altre persone indossate la mascherina evitate di dar la mano quando possibile e se lo fate perché ogni tanto viene naturale sbaglio anche io ogni tanto sanificate adesso pulite le mani lavate le mani ci sono distributori di gel ad ogni d'angolo quindi se vi capita di sbagliare cioè si può usare il gel che si trova dappertutto distanziamento sociale mascherina e lavaggio delle mani con queste tre semplici cose riusciamo ad arginare la situazione riusciamo ad andare avanti e guardare anche il futuro con un po' di ottimismo non bisogna abbassare la guardia non bisogna prendere sotto sotto gamba quello che sta succedendo però però bisogna anche ricordare una cosa soprattutto di fronte a questi professoroni che continuano ad andare in televisione continuano magari anche secondo me ogni tanto con un po' di non lo dico perché la box creo polemica è inutile bisogna fare una distinzione essere positivo al coronavirus non vuole essere malati non vuol dire essere malati per fortuna l'andamento dei ricoveri delle terapie intensive non sta aumentando nonostante ci sia un altro numero comunque ci siano diversi casi di positività questo perché perché in questo periodo le manifestazioni cliniche del coronavirus sono molto più leggere rispetto a una volta rispetto a qualche mese fa quindi chi è positivo non vuol dire che sia malato perché nel 98% dei casi secondo le statistiche di questo periodo il 98% dei casi non sviluppa alcun sintomo l'altro 2% sviluppa magari sintomi che sono molto lievi o che sono assolutamente sopportabili restando a casa e una piccolissima parte finisce in ospedale ma veramente stiamo parlando di una piccola parte allora se continua in questo modo qui la situazione è assolutamente gestibile e sotto controllo non sappiamo cosa succederà in autunno se il virus tornerà ad avere delle percentuali di ricoveri come prima l'unica cosa che possiamo fare tutti noi di fronte a questa incertezza è portare avanti precauzioni le precauzioni lavare le mani mascherine e distanziamento fatelo continuiamo a farlo tutti quanti sicuramente ne verremo fuori in altri paesi europei la situazione è molto più critica rispetto a noi e ve l'ho detto anche prima tutto in Francia in Spagna questo cosa vuol dire che bisogna stare attenti bisogna stare attenti non bisogna prendere sotto gamba e in questo modo se continueremo a comportarci bene vedrete che la situazione sarà assolutamente gestibile allora vediamo vediamo se c'è qualche altra domanda se volete affrontare qualche altro tema prima di chiudere allora ci ho provato ad aggiungere il motivo ma ogni volta che provo mi dice impossibile e tu riprova fino a quando non succederà non ci riuscirai penso che sia fattibile magari c'è qualche ne ho fatte due o tre versioni quindi magari prova a cambiare a cambiare versione e vediamo cosa succede buongiorno Alberto sei un grande ma non posso votare per il voto a Venezia io sto con Forcolin da beh Sonia grazie lo stesso ricordo che solo chi è a Treviso può darmi la preferenza quindi se siete a Treviso voto Zaia e scrivo Villanova nelle altre province ci sono tanti altri amici candidati vi invito ad andare anche sul sito del governatore Zaia delle nostre liste vi dico subito per non sbagliare vi dico subito qual è l'indirizzo perché ormai inizio a perdere colpi anch'io allora l'indirizzo per andare a vedere va bene che è facile www.lucazaia2020.it lì troverete tutti i candidati per le vostre province e troverete il programma elettorale troverete quello che ha fatto Zaia negli ultimi dieci anni anche se penso che lo conosciate benissimo quindi se volete informarvi www.lucazaia2020.it gli trovate tutte le informazioni bello sto messaggio noi veneti siamo fantastici brava Silvia allora tra l'altro tra qualche giorno penso a partire da martedì vedrete anche il mio spot che andrà in onda sulle sui canali locali di Rete Veneta e Antenna 3 oggi probabilmente appena finisco la diretta mi trovo con il gruppo di lavoro con il mitico Igor per fare gli ultimi aggiustamenti dopo fatemi sapere quando lo vedrete cosa ne pensate mi raccomando che ci tengo tanto al vostro parere quindi fatemi sapere quando vedrete lo spot lo caricherò anche su Facebook e datemi e datemi il vostro parere Alberto ma tu sei per il sì o per il no referendum allora io voterò sì al referendum come indicazione indicazione della della Lega visto che comunque la Lega ha sempre votato sì al referendum anche se ripeto non mi ha e non è un tema che mi esalta tanto questo sicuramente grande grande Maria Pia Alberto Orgoglio Veneto grande indossate sempre la maglietta chi l'ha ricevuta purtroppo alcuni di voi non hanno potuto ricevere la maglietta perché è brutto da dire ma abbiamo subito un furto dell'ultima stampa l'ultima stampa l'ultimo scatolone di magliette che avevo fatto preparare c'è stato c'è stato portato via e quindi purtroppo qualcuno ha dovuto rimanere senza ma dopo fatto il 22 dopo in qualche modo vedrò di stamparne ancora per tutti gli amici che hanno dato una mano allora vediamo a me non è arrivata la maglietta Marco scusami hai ragione ma come dicevo è stata aperta la macchina e quindi l'unica roba che hanno portato via lo scatolone con le magliette e quindi siamo rimasti sprovvisti per questo periodo e adesso con la campagna elettorale è un periodo un po' difficile per riuscire a fare a fare le magliette comunque vedrete che dopo dopo il 21 faremo arrivare la maglietta a tutti quanti e fatemi ringraziare ancora veramente di cuore la Valentina Vale che mi ha dato una gran mano mi sta dando una grandissima mano nella distribuzione anche in tutta la campagna allora siamo arrivati all'ora di diretta vediamo se c'è il buon seccio quello che manca al governo assolutamente sì su questo siamo d'accordo allora dai chiudiamo eccolo qua Maria Pia scrive l'indirizzo per chi vuole andare a vedere dove trovare se non siete della provincia di Treviso se siete della provincia di Treviso sapete immagino sapete già cosa fare e se no adesso ve lo ridico di nuovo per chi viene da fuori della provincia di Treviso e vuole vedere chi sono i candidati trova tutto su www.luccazaia2020.it come scrive Maria Pia quindi andate a vedere tutto quanto lì c'è tutto se volete andare a vedere invece anche il mio sito è facilissimo anche lì www.albertovillanova.it fatemi sapere anche lì cosa ne pensate in giornata tra oggi e domani ci sono gli ultimi aggiustamenti e quindi anche lì potete trovare le informazioni su di me potete trovare la mia attività politica cosa ho fatto le mie percentuali di presenza in consiglio regionale le proposte di legge che ho presentato quindi trovate tutto quanto vi ripeto www.albertovillanova.it bene allora fai le mascherine per abbinarle con la maglietta ciao giusto Lele allora grazie grazie di Micheletto spacciatore di magliette del Veneto è vero è sempre grande Gabriele il mio distributore e il mio stampatore di magliette allora grazie grazie ancora per essere stati qui questa domenica mattina spero di avervi tenuto un po' di compagnia in questa giornata di pioggia e grazie a tutti gli amici che hanno scritto queste centinaia di messaggi anche oggi grazie di cuore vi do ancora se per caso non si è ancora capito allora il 20 il 21 settembre è facilissimo cosa fare mettere una croce su questo simbolo quindi voto Zaia e scrivo Villanova come è scritto qui facile 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 ma se volete proprio vedere come fare ho preparato anche questo vediamo se viene fuori in maniera un po' più grande così si capisce eccolo qua io mi sposto di qui l'indicazione croce sul simbolo con scritto Zaia e dopo si scrive Villanova a fianco facilissimo 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 quindi questo è anche quello che vedrete sui manifesti elettorali su i santini i classici santini e tutto quello che è il materiale elettorale lo slogan molto semplice con indicazioni di voto basta questa penso di aver finito anche per oggi questa bella bella diretta grazie grazie a tutti voi grazie per chi mi darà una mano per chi vuole fare il volontario se volete dare una mano in maniera diretta concreta volete portare fuori un po' di materiale tra i vostri amici se avete voglia di partecipare e dare il vostro contributo come volontari per la mia campagna elettorale basta mandare un semplice messaggio diretto alla pagina e dopo verrete contattati vi verrà spedito il materiale ovvero direttamente a trovarvi per portarvelo io di persona nei prossimi giorni grazie grazie di cuore a chi darà una mano grazie a chi è stato collegato e vi aspetto nei prossimi giorni semplicissimo se volete dare una mano basta anche durante queste tre settimane condividere quello che posto far girare il più possibile i post metterli nella vostra pagina commentare quindi quello che volete o qualsiasi goccia che potete portare come contributo è importantissimo perché senza di voi io non sono niente quindi grazie di cuore buona domenica a tutti e ci rivediamo nei prossimi giorni ciao a tutti buona domenica